e questa è l'ultima tragica pagina scritta da tchaikovsky ultimata poco tempo prima della sua morte 1892 si apre in maniera così dolente con questo tono scuro questo questa frase enunciata dal fagotto e poi dai clarinetti primo tempo poi avrà uno sviluppo molto neurotico e molto intenso di cui vorrei riuscire a farvi sentire alcune frasi l'occasione in realtà è quella di ascoltare della musica attraverso le immagini o meglio vedere delle immagini che non sono però in questo caso quelle del film tradizionale interessante che quello che giustifica un proiettore di questo livello ma anche di vedere come la musica possa essere supportata all'ascolto anche dalle immagini d'altronde quando tu sei dal vivo la musica non è che l'ascolti con gli occhi chiusi la ne godi di questa musica d'occhi ben aperti allora l'occasione è interessante anche per i lettori di avv magazine perché proprio questo mese sta per uscire la recensione di un box che contiene le tre ultime sinfonie di cecoschi quarta quinta e sesta sinfonia l'esecuzione è quella di andris nelsons che da qualche anno è il nuovo direttore del gewandhaus di lipsia prima c'era il nostro riccardo shelly c'è stato un avvicendamento shelly è andata a milano andris nelsons attualmente tiene le redini di boston e di questa gewandhaus orchestra con il titolo storico di kappelmeister questa è l'orchestra civica più antica del mondo e suona in questa meravigliosa sala che adesso vedremo tra l'altro equipaggiata di uno spettacolare organo il box contiene tre blu-ray ciascuno con quarta quinta e sesta sinfonia poiché naturalmente riprende il concerto di tre serate quindi c'è l'intero programma in questo caso per esempio la sesta sinfonia è abbinata alla sinfonia numero 40 di mozart celebberrima pagina del grande classicismo austro tedesco cosa dire quarta quinta e sesta ci sono ovviamente centinaia di diverse edizioni disponibili in audio non così tante in video in video potrei segnalare almeno quelle di carajan di bernstein che però sono ormai degli anni 70 80 quindi tecnicamente abbastanza datate troviamo anche l'orchestra del teatro marinski con valeri gergiev che le esegue quarta quinta e sesta nella sal playel di parigi in una registrazione di qualche anno fa queste che stiamo vedendo adesso sono del 2018 2019 quindi abbastanza recenti anche dal punto di vista della resa tecnica intendo per quanto riguarda il suono che è disponibile sia in due canali come vedete se io seleziono qui l'audio si può ascoltare in dts master audio multicanale oppure semplicemente in stereo come la stiamo ascoltando adesso il menu consente di scegliere direttamente i brani ci sono anche dei trailer e così via ma poiché il concerto comprende anche la sinfonia numero 40 di mozart che è una pagina di grandissimo equilibrio sinfonia in sol minore quindi nonostante l'inizio sia indicato come tempo molto allegro il carattere minore dell'esecuzione ci fa rendere abbastanza malinconica in questa sottile malinconia mozartiana che come dire traspare sempre anche dietro il sorriso ne vogliamo ascoltare un frammento please ditemi di sì e poi passiamo ad ascoltare alcuni momenti significativi della sesta di tchaikovsky dove l'orchestra naturalmente è ben più ampia e nutrita rispetto alla formazione come dire fine settecentesca tipica della musica di mozart iniziamo quindi col primo tempo molto allegro sinfonia numero 40 gevan daus orchestra andris nelson alla direzione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti